Eccoci, buongiorno, ci troviamo a Merano, siamo in compagnia di Patrizia Brunner che è la proprietaria dell'hotel Sitnerov, proprio in centro città. Buongiorno Patrizia. Buongiorno. Allora, com'è iniziata l'estate quest'anno? È cominciato un po' a rallinto, però adesso agosto è andata veramente forte e adesso ci stiamo preparando per l'autunno. L'autunno, ecco, per cui adesso avete pieno diciamo. Sì, adesso in questo periodo. I turisti sono italiani o sono anche stranieri? Ma un po' di tutto. Sono tornati gli stranieri, per cui ci sono anche i tedeschi. Che caratteristiche ha Merano per venire in vacanza e soggiornare? Quali sono le peculiarità del territorio, del paese? Principalmente c'è un po' di tutto sia per i turisti che vogliono andare a fare passeggiate, quelli che vogliono andare nei termini. Di Merano che sono molto belle. Abbiamo tanti castelli da visitare e poi anche il giardino botanico è molto interessante. Ecco, per cui chi viene a Merano può tranquillamente tutto il giorno trovare qualcosa da fare sicuramente. E se non ha voglia di fare niente può andare sulla terrazza e prendersi il sole, ecco, questo sicuramente. Allora, vogliamo invitare i turisti a venire nel mese di settembre, che è un mese fantastico perché le temperature non sono caldissime, però le giornate sono belle. Vogliamo dare il sito internet per poter curiosare e potervi contattare? Sì, il sito internet è www.sitnerhof.it Benissimo. Allora, ringraziamo Patrizia Brunner per averci dedicato questi minuti di intervista. Vi invitiamo tutti a Merano all'hotel Sitnerhof per poter soggiornare e fare la vostra vacanza. Noi proseguiamo con l'intervista e buona giornata a tutti. Buona giornata e a presto a Merano.